Le grandi voci del cinema Scusa John ma questo era un messaggio del capo Io lo devo solo consegnare, capisci? Antonio Gerardi, intanto io ho imparato un sacco di cose perché sei veramente un grande attore e la ricerca dell'eccellenza su ogni battuta, ogni parola lo studio del personaggio mi ha fatto veramente imparare tanto, tanto di più cose anche che onestamente non mi immaginavo neppure per cui ho ottenuto veramente l'eccellenza con Antonio Gerardi su questo personaggio che è Peter Esposito Senti, io posso soltanto dirti che sono onoratissimo di averti nel cast di Life Benvenuto Antonio Onore e piacere è tutto mio Grazie Alex e insieme questa dimostrazione che ciò si può fare Life, il primo film senza immagini La realizzazione di una colonna audio dove l'immaginazione è la grande protagonista in grado di proiettare ciò che non vedrai Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti Film senza immagini perché l'emozione la vivi ascoltando Quando sono stata là, io ero io Life, con le voci più famose che hai conosciuto al cinema e in tv Trova una soluzione perché il prestito che hai avuto da noi può partire con questo cazzo i programmi Life, il primo film senza immagini Chiudi gli occhi e vedrai Film senza immagini punto net